Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati, buon lunedì, buon inizio di nuova settimana. Sembra un po' una frase da Luca Giurato, però la dice Luca Toselli. Come state? Allora, questa mattina uno dei primi commenti che ho letto su YouTube è stato proprio quello di uno di voi, mi pare scritto da Daniel, che dice che tristezza però pensare che quest'anno giocheremo solo una volta a settimana. Concordo, concordo, è assolutamente un momento brutto perché davvero pensare che vedremo così poco la Juventus, nonostante ovviamente gli anni in cui ci ha fatto penare, gli anni recenti in cui ci ha fatto penare, non è una bella cosa, perché io ho già quella voglia di mettermi qui e guardare una partita della Juve e soffrire per una partita da Juve per cercare di raggiungere un risultato, di proiettarci a un certo punto, quindi sarà sicuramente molto molto triste quest'anno. Tra l'altro ieri qualcuno mi ha detto non pensiate che giocare una volta solo a settimana sia un plus per il campionato perché quando poi gli allenatori escano dalla Champions all'Europa League non festeggiano perché giocano una sola volta a settimana, ma questo è tutto un altro discorso, perché comunque tu fai tutta la stagione in questo modo, tu parti con la stagione con dei presupposti sicuramente diversi, sai già che sarà così, aggiungi che non ci sarà nemmeno la delusione di un'eliminazione europea, ovvio che gli allenatori non festeggiano quando escono dalla competizione, ma un conto è lavorare una volta a settimana per tutto l'anno, un conto è invece accumulare fatica non solo fisica ma anche nervosa. Io ho sempre in mente l'Alazio nell'anno del Covid, un Alassio che ha rischiato veramente di vincere lo scudetto nell'anno in cui Sarri era allenatore della Juventus, poi il Covid che blocca tutto, le squadre costrette a giocare due, addirittura tre volte a settimana per far incastrare il calendario, è l'Alazio che inizia a perdere un pochettino di smalto, di forma fisica e lascia indietro qualche punto anche veramente sorprendente, quando pochi mesi prima con il campionato che si svolgeva con regolarità e con l'Alazio che giocava soltanto una volta a settimana era veramente uno schiacciassassi, quindi veramente io credo che giocare una volta a settimana sia molto molto positivo per una squadra che vuole dedicarsi corpomente, completamente all'obiettivo principale, cioè la Serie A. Poi bisogna capire dalla Serie A che cosa si vuole. L'altro giorno avevo fatto un video in cui dicevo guardiamoci negli occhi e parliamoci chiaramente perché bisogna capire in che direzione stiamo andando. Per capire cosa vogliamo della Serie A dobbiamo mettere giù gli obiettivi, dichiarare degli obiettivi. E nei commenti di quel video ho notato tante opinioni differenti, tante visioni differenti del popolo juventino. È giusto che sia così, è normale che sia così. Ognuno di noi ha una posizione e finché siamo tifosi, siamo tutti indipendenti, abbiamo un cervello che ha ragione in un certo modo, non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Poi però la Juventus deve dettare delle condizioni, deve buttare giù degli obiettivi. E quelli che sono stati gli obiettivi dichiarati dalla Juventus a mezzo stampa mi lascia un pochino perplesso. Perché? Perché ci sono delle opinioni fortemente contrastanti e ribadisco finché siamo noi tifosi liberi di pensare, è un conto. Ma quando gli organi principali della Juventus e tre figure fondamentali nell'organigrama della Juventus come il direttore sportivo, l'allenatore e il capitano vanno ai microfoni e danno tre versioni differenti di quelle che sono gli obiettivi della Juve, mi viene da chiedermi, ma almeno internamente la Juve, le idee chiare ci sono oppure no? Ne parlavamo giusto l'altro giorno, io preferisco assolutamente Massimiliano Allegri che a differenza delle ultime due annate va ai microfoni e mi parte con l'obiettivo minimo e cioè l'obiettivo della Juventus è la rincorsa al quarto posto perché negli ultimi due anni invece avevamo avuto dei proclami molto maggiori e alla fine dell'anno avevamo scoperto che l'allenatore era il primo a non credere alle sue parole e queste cose non mi piacciono. Quindi delle due preferisco veramente partire basso con l'idea che sempre si può migliorare. Va benissimo così. Se Allegri deve dire una roba quest'anno è giusto che dica quella. Dall'altra parte però mi domando la Juventus che gioca solo una volta a settimana e con questa rosa che va bene ne abbiamo parlato l'altro giorno per qualcuno può essere scarsa per me non è così però questa rosa non è una rosa che gioca una volta a settimana da raggiungere soltanto il quarto posto con un allenatore che ha una storia come quella di Massimiliano Allegri. Ma questo sembra veramente allucinante poi ribadisco è la mia opinione giusta? Sbagliata? Non importa. È la mia opinione. Però a quanto pare anche quella della Juventus per bocca del capitano e del direttore sportivo è un'opinione molto più vicina alla mia rispetto a quella dell'allenatore perché giunto lì ha detto non ci poniamo limiti siamo la Juventus non possiamo porci limiti ovvi dobbiamo buttare giù degli obiettivi devono anche essere verosimili però non è che vi posso dire che la stagione della Juventus sarà interamente orientata verso il quarto posto e credo che sarebbe anche una sorta di insulto nei confronti dei tifosi anche perché sarebbe la quarta stagione di fila in cui la Juventus va a giocarsi il quarto posto o comunque che arriva a qualificarsi al quarto posto per poi arrivare alle parole di Danilo che dice Juve fuori dall'Europa è la decisione giusta se poi siamo a posto per il futuro nel senso togliamoci tutte le scorie non vogliamo più rimanere all'interno di quella nuvola di incertezza siamo fuori dall'Europa adesso siamo pari bene concentriamoci perché ora il nostro obiettivo torna a essere vincere di nuovo lo scudetto per far tornare la Juventus al primo posto tra le squadre italiane questo è una dichiarazione di orgoglio da parte di quello che è il nuovo simbolo il nuovo leader della Juventus il nuovo capitano della Juventus con l'esclusione di Bonucci dalla prima squadra queste sono parole nelle quali mi ritrovo ma anche quelle di Giuntoli anche quelle di Allegri degli altri anni la Juventus non prendiamoci in giro è una squadra che deve sempre avere l'ambizione a vincere poi può non vincere e ribadisco ancora una volta questo concetto perché tante persone mi fanno passare per risultatista assoluto ragazzi non è il vincere ad ogni costo è il provare a vincere ad ogni costo e non tirarsi mai indietro dalla volontà di vincere partire sempre con l'idea che si debba vincere poi gli altri sono più bravi poi non si mettono a posto le cose poi qualcosa va storto non c'è problema però bisogna dare l'impressione di arrivare a vincere l'anno con Pirlo quando è che la Juventus è stata in corsa per lo scudetto? poco e nulla le ultime due stagioni con Allegri? poco e nulla quando mai siamo stati ai primi posti in Serie A nelle ultime tre stagioni? e ribadisco Pirlo e Allegri cioè non è un discorso di Allegri Pirlo e Allegri è un discorso di Juventus torniamo a focalizzarci sulla Juventus e se si parla di Allegri in questo momento è perché è l'allenatore della Juventus non perché si vuole tirare Allegri dentro i discorsi a prescindere ma l'allenatore ha ovviamente delle responsabilità e se la Juventus non raggiunge determinati obiettivi significa che le responsabilità ci sono delle responsabilità nelle responsabilità per forza di cose quindi la Juventus non può partire una stagione senza la volontà l'obiettivo in testa di vincere è impossibile poi le altre si stanno muovendo bene sul mercato l'Inter che prende Samaric e Frattesi è sicuramente una squadra importante lo era già però per Ed Brozovic centrocampo cede un titolare in porta ceduto tutto davanti ha perso Dzeko e Lukaku in difesa sono una squadra che non mi convince tantissimo quindi se la Juventus avesse fatto una roba come l'Inter cioè cedo 5 titolari prendo Frattesi e Samaric saremo qui a leggere sì però abbiamo preso due giocatori uno dal Sassuolo uno dall'Odinese non è che siamo pronti a vincere invece la prende l'Inter e siamo qua a dire ecco vedi hanno fatto i due colpi e quindi sono le candidate numero uno lo scudetto perché io conosco i miei polli io conosco i miei polli avessimo fatto un mercato come quello del Milan ma avremmo detto eh che bello abbiamo speso mille milioni dopo i 90 incassati all'accessione dei tonali abbiamo preso i giocatori di prospettiva e quindi adesso avremmo detto ma sì ma chi sono questi sono pronti a vincere in Italia non li avevo mai sentiti nominare quindi chissà che cosa ne viene fuori un po' come è stato il Napoli dell'anno scorso ecco il Napoli è un punto interrogativo secondo me quindi io torno a dire dal mio punto di vista una squadra perfetta in Serie A non c'è quella che è sempre stata la mia grande favorita per rosa cioè l'Inter perché secondo me l'Inter aveva la rosa migliore non so se più della Juve pare la Juve un po' meno la Juve però l'Inter è la squadra che è stata più coerente secondo me negli ultimi anni perché ha vinto uno scudetto due supercoppe italiane due coppe Italia è andata sempre in crescendo ha fatto una finale di Champions League una finale di Europa League negli ultimi 4-5 anni l'Inter è stata la squadra due secondi posti cioè quella squadra che ti ha dato più sensazione di continuità perché è vero che il Milan vince ma è sporadico vediamo se il Napoli si conferma invece l'Inter è sempre stata quella che quest'anno sta iniziando a cedere sta iniziando ad allontanarsi un po' da quella struttura che era l'Inter non dico che non è più la mia grande favorita però ad oggi l'Inter secondo me è un grandissimo punto interrogativo un grandissimo cantiere in costruzione il Milan è un'incognita il Milan può essere una squadra che ammazza il campionato e lo domina così come una squadra che fa letteralmente schifo in questa stagione per poi il prossimo anno diventare la squadra più forte della serie A a mani bassissime perché quando fai un mercato orientato completamente su dei giovani talenti su delle promesse non è così vai sul lungo ma è un progetto di crescita il Milan non ha paura di queste cose il Milan l'aveva già fatto anni fa ed è arrivato a vincere il scuetto proprio così e ha capito che quel gruppo che aveva vinto lo scudetto non poteva replicare perché probabilmente era già andato a dare tutto quello che poteva il Napoli bisogna vederlo il Napoli ha vinto sì ha vinto uno scudetto la Juventus quando ha vinto uno scudetto con Conte poi si è riconfermata poi si è riconfermata poi ha vinto non è facile e ribadisco c'è già stata una cessione quella di Kim vediamo quanti altri ne partono perché potrebbero partirne altri poi se il mercato del Napoli scudettato come obiettivo ha cederne il meno possibile e basta loro alzo le mani però c'è anche una fotografia chiara di quella che è la Serie A in cui la squadra campione è il mercato massimo che può fare e non cedere i giocatori e trattenerli non proprio il massimo quindi ribadisco secondo me ci sono sì delle squadre però tutti i limiti della Juve perché la Juve non ha una rosa perfetta non prendiamoci in giro è una rosa che può ambire decisamente di più alle prime quattro acquisizioni poi nelle ultime tre annate siamo arrivati in Champions League ma sempre fuori dalla lotta praticamente a ottobre novembre e un conto è arrivo secondo terzo quarto perché poi sul finale del campionato c'è lo scontro diretto e l'episodio che mi va a sfavore vado a giocare una partita la palla non vuole entrare gli altri invece sono fortunati un tiro in porta mi fanno go un conto è ci arrivo con 15 20 punti di distanza da quelle che si giocano effettivamente il primo posto e va bene così perché dal Milan e dal Napoli siamo arrivati a tantissimi punti dall'Inter quando ha vinto tantissimi punti siamo sì arrivati entro le prime quattro posizioni però è abbastanza deprimente sinceramente pensare a un altro anno di Juve che va a fare quel campionato lì sì magari mi qualifico alla Champions ma arrivo 15 10 20 punti dalla prima posizione senza nemmeno mai essere in competizione quindi noi siamo qui a tartassarci a combatterci sempre in maniera pacifica a scambiarci delle opinioni contrastanti anche molto distanti e poi alla Juventus che fa la stessa cosa è meraviglioso e c'è proprio la trasposizione di quelle che sono le diverse vedute tra tutti noi e sono anche diverse dentro la Juventus io spero che davvero si possa partire con un basso profilo cioè io oggi sentire parlare di Scudetto da parte del capitano della Juventus lo trovo anacronistico anacronistico ma legittimo giustissimo è molto più coerente siccome è oggi il discorso di Massimiliano Allegri rispetto a quello di Danilo perché la Juve è una squadra che negli ultimi tre anni è arrivata lì e deve ripartire da lì da confermare quello che ha fatto e cercare di migliorarlo poi dire che invece l'obiettivo è quello lì e se raggiungo quell'obiettivo che è il quarto posto posto viene finito ho fatto il mio no quello assolutamente no però bisogna anche capire qual è effettivamente l'obiettivo comune che si sono dati dentro la Juve quarto posto Scudetto niente limiti cosa ci sta nascondendo qual è il vero obiettivo della Juve mentre facevo un paio di tagli al video prima di caricarlo mi sono reso conto che forse il finale è un pochino incerto quindi voglio cercare di migliorarlo nel senso trovo molto più coerente il discorso Allegri per quella che è oggi la Juventus per le ultime due tre stagioni che abbiamo visto della Juventus trovo molto più legittimo sacrosanto e in linea con l'idea di Juventus il ragionamento di Danilo o il ragionamento di Giuntoli sono molto più dalla parte del pensiero di Danilo di Giuntoli rispetto a quello di Allegri poi pensare che oggi la Juventus possa dire vinciamo lo Scudetto per me oggi è anacronistico ma attenzione non significa che la Juve non debba andare a lottare per lo Scudetto se la Juventus mi fa una stagione come quella dell'anno scorso quella prima quella prima ancora in cui arriva sì in Champions ma lo Scudetto non lotta mai letteralmente mai non sono mica contento ma proprio per niente se la Juventus mi fa una stagione in cui è lì nel gruppone delle prime due tre una due quelle che sono quelle che andranno a lottare per lo Scudetto un po' sulla falsa riga di quello che è stato il testa testa Inter e Milan nel finale con il Milan che poi diventa campione a Reggio Emilia e poi magari non vince lì non posso dire niente non ci posso fare niente lì sono un insieme di cose un insieme di episodi un insieme di giornate sovrapposte il tifoso dell'Inter che perde con lo Scudetto certo è deluso ovviamente ci mancherebbe altro però sa benissimo che la stagione la squadra l'ha fatta in linea con quelle che erano aspettative e cioè provare a vincere lo Scudetto non è che a giugno o a luglio o ad agosto puoi metterti qua e dire l'obiettivo è vincere lo punto potevi fare quando avevi una squadra di un certo tipo in quegli anni lì oggi no ma oggi in Italia questo discorso non lo può fare nessuno cioè il discorso di quest'anno dobbiamo vincere lo Scudetto non lo può fare il Napoli che ha vinto lo Scudetto non lo può fare l'Inter che è arrivata in finale di Champions non lo poteva fare il Milan l'anno scorso dopo aver vinto lo Scudetto non lo poteva fare l'Inter dopo aver vinto lo Scudetto non lo poteva fare nemmeno la Juve nemmeno la Juve di Pirlo perché in quell'annata ho sempre detto ragazzi l'allenatore non ha mai allenato però ci sono Ronaldo dobbiamo andare a vincere il decimo bisogna almeno provare a entrare nella lotta cosa che non è mai avvenuta torna Allegri dobbiamo almeno tornare nella lotta non è avvenuto il secondo anno di Allegri dobbiamo tornare nella lotta non è mai avvenuto quindi ribadisco parlare oggi di dobbiamo vincere lo Scudetto per me è anacronistico il dobbiamo vincere lo Scudetto questo lo devo dire con grande chiarezza il dobbiamo arrivare nelle prime quattro punto è offensivo per la storia della Juventus ma molto più coerente per quello che abbiamo visto nelle ultime due stagioni la via giusta secondo me è quella di Giuntoli ecco se devo trovare un inserimento giusto tra Danilo che dice dobbiamo vincere lo Scudetto Allegri dice dobbiamo arrivare nei primi quattro e Giuntoli che mi dice non mi pongo limiti partiamo con l'obiettivo di arrivare nei primi quattro ma non può essere l'obiettivo della stagione secondo me Giuntoli è stato perfetto nella conferenza stampa e rappresentazione ne ho parlato sul canale il video è andato molto bene e tanti di voi si sono ritrovati nelle parole di Giuntoli quindi assolutamente secondo me l'analisi di Giuntoli è la migliore di tutte quando sento che la Juve deve vincere lo Scudetto secondo me è un po' eccessivo deve vincere lo Scudetto è un po' eccessivo la Juventus deve arrivare nei primi quattro e basta è ugualmente eccessivo perché non può essere la storia della Juventus la Juve deve giocare per vincerle tutte non porsi limiti ovviamente e deve cercare di vincere lo Scudetto assolutamente sì questo assolutamente sì una quarta stagione con la Juve che non entra nemmeno nella lotta non la prendono neanche in considerazione perché sarebbe terrificante a maggior ragione con una sola competizione a settimana con una sola competizione